Siamo ai campionati di Riccione, Gregorio Patrinieri, come sta andando? Sta andando tutto sommato bene, ho fatto due gare per ora, due ori, non sono al 100% della forma ma direi che per il momento va bene così. Sei anche tutor di Arena Sum Your Best, come pensi che sta andando? Cosa stai dando a questo progetto e cosa ritieni che i ragazzi stiano dando a te? Sicuramente è un bel progetto e noi qui ai campionati italiani riusciamo a interagire tra di noi, ho parlato con i miei due atleti e stanno andando bene anche loro, Nicolangelo ha avuto qualche giorno in cui non è stato benissimo ma speriamo si riprenda per i due di domani. Rosciolino sta dando dei consigli giorno per giorno con il processo del mister, cosa vorresti dire ai tuoi ragazzi, Simona Quadarelli, Nicolangelo, Di Fabio? Che comunque stanno andando bene, continuare a dare il massimo, queste sono gare importanti chiaramente anche se vogliono qualificarsi per i mondiali o altre gare che ci saranno quest'estate, quindi è importante continuare e tenere la concentrazione alta fino alla fine. Quindi Arena Sum Your Best? Arena Sum Your Best?